Ci sono grandi aspettative per il Pug, c'è anche ansia, preoccupazione per la tutela del territorio ma tutto sarà coniugato perfettamente rispettando la bellissima Marsala. Questo lo speriamo ed è l'ospicio di tutti e il lavoro che noi siamo tenuti a fare ha certamente quell'obiettivo quello di coniugare i vari sistemi che sono importanti nella pianificazione dal sistema sociale al sistema ambientale al sistema infrastrutturale per fare una summa e far sì che sia vivibile. Sappiamo che questi sistemi confliggono tra di loro, basti pensare tra il sistema ambientale e il sistema economico quali possono essere i conflitti anche legati all'utilizzo della costa piuttosto che al consumo del suolo. Abbiamo visto in questo convegno che Marsala è una città diffusa, una città dispersa che ha questa dispersione e questa diffusione ha dei caratteri positivi e dei caratteri negativi. I caratteri positivi sono legati al fatto che questa dispersione è di formazione della città e l'abbiamo visto anche dagli studi di analisi storica per cui le borgate, le contrade, i nuclei antichi erano già esistenti. Poi con una pianificazione magari non così attenta si è data la possibilità di creare e di impermeabilizzare ancora il territorio ed è qualcosa, come dicevate voi, che dobbiamo in qualche modo contrastare ma anche indirizzare per far sì che vi sia una qualità della vita legata anche alla possibilità di poter vivere in mezzo alla natura, in mezzo al paesaggio, quindi non solo all'interno della città ma d'altra parte mantenere un consumo di suolo e diminuire quella che è l'impermeabilizzazione del suolo per far sì che vi siano ancora quegli habitat e un sistema agricolo ed ecosistemico funzionante. Questo territorio ha fatto a meno per troppo tempo di un piano urbanistico che desse ordine, organizzazione territoriale che potesse anche tutelare delle risorse che sono imprescindibili per lo sviluppo futuro del territorio di Marsala. Questa di oggi ha esattamente questa funzione, eventi come quelli di oggi hanno esattamente questa funzione, cioè quella di saldare colori quali dal punto di vista politico e tecnico lavorano alla redazione di questo strumento urbanistico e i portatori di interesse di natura economica, sociale. e far confrontare le diverse punti di vista sull'uso del territorio, sull'organizzazione del territorio e provare in questo percorso partecipato a tradurle in un piano che abbia una serie di azioni progettuali che conduca ad un modello di sviluppo sostenibile.